Sali a bordo delle vetture dell'auto noleggio Ciampa. In zona artigianale alla Dispoli, personale qualificato e cortese ti consentirà di scegliere l'auto che fa per te. Noleggio furgoni e van 9 posti per lunghi e comodi viaggi. Con 250 euro al mese, noleggio a lungo termine di Pande Lancia Y3 Elefantino con tutti i servizi compresi. Maggiori informazioni ai nostri numeri, auto noleggio Ciampa e viaggi dove vuoi.